Abbiamo pensato di sospendere il canone a quelle attività commerciali maggiormente colpite dall'ultimo DPCM, vale a dire bar, ristoranti, palestre, a cui ovviamente continueremo a offrire servizio di sorveglianza e vigilanza. Gli sospendiamo per il periodo di blocco il canone che paga. È un piccolo gesto per far sentire la nostra vicinanza in questo momento di difficoltà. Abbiamo fatto un riscontro tra il nostro database clienti, abbiamo circa 200 attività di questa tipologia e lo sospenderemo per il periodo che il Ministero, il DPCM sarà in vigore. Vigilar è dal 2000 che fa l'attività di vigilanza nella provincia di Pesurubino e nel 2019 abbiamo aperto una sede anche a Rimini dove sviluppiamo gli stessi servizi, offriamo gli stessi servizi di vigilanza. Abbiamo la società di installazione nostra che installa impianti antifurto TVCC a cui garantiamo un servizio di pronto intervento in caso d'allarme 24 ore su 24. Quindi anche le abitazioni private forniamo un servizio 24 ore su 24, quindi anche in orario diurno. Va la nostra guardia giurata ed effettua il pronto intervento in caso di allarme. Si allargano i servizi di Vigilar con l'attivazione della Green Division, di cosa si tratta? Sì, già da marzo abbiamo attivato questa divisione che si occupa di sanificazione degli ambienti con apparecchiature particolari per cui ai nostri clienti e anche ai non clienti facciamo delle sanificazioni periodiche. Grazie Grazie Grazie